Però per recuperare lui di notte mi serve la macchina adatta Mi serve la macchina adatta, mi serve la Porsche Ok, lei mi serve, la nostra Cercarottami, come la chiamo io Qualcuno ha visto un vecchio finire? Io lo faccio, mi guardo e prendo la modalità foto E mi guardo un po' in giro da qua Eh, la vedo dura eh La vedo molto dura Molto molto dura Eh, non vedo un cazzo però Non vedo un cazzo di niente, non vedo Buercas Dias Un'altra No dai ti prego Un altro gioiellino di mendicato Dove cazzo lo trovo un gioiellino di mendicato qua? Questo che cos'è? E' lui? Eh ma di notte così è difficile eh Notte così è estremamente difficile Potrebbe essere dappertutto Dappertutto potrebbe essere No, un'altra volta ho sbagliato, ho sbagliato Potrebbe essere dappertutto Vediamo Vediamo Qua vedere Il fienile è difficile eh Lui che fa? Passa e basta? Potrebbe essere anche più facile del previsto eh Eccolo qua Eccolo qua Ah vedi? Ah vedi che non è difficile, sì? Eh sì A giorno pieno, lei di notte non viene Non so cosa sia Beh Aiuda me E il primo gioiellino L'abbiamo trovato